Il 31esimo rapporto ecosistema urbano 2024 di Lega Ambiente, realizzato in collaborazione con Ambiente Italia, il sole 24 ore, in Abruzzo promuove soltanto la città di Teramo, classificatasi al ventesimo posto. Rimandate a settembre invece Chieti Pescare e L'Aquila, rispettivamente al 67esimo, 72esimo e 75esimo posto. Lo studio, come è noto, misura le performance ambientali dei capoluoghi di provincia italiani. L'edizione 2024 di Ecosistema Urbano si arricchisce di nuovi parametri e ragionamenti per rendere il report di Lega Ambiente sempre più agile e al passo con la realtà urbana in continua evoluzione. Quest'anno ha un peso diverso, un maggior peso rispetto alla valutazione quindi delle città, il valore della dispersione idrica, che quindi ha penalizzato fortemente ad esempio Chieti e L'Aquila, mentre sicuramente ha fatto da volano per Teramo, che è una delle performance migliori quindi di tutta Italia. Ancora ha acquisito quindi come nuovo parametro il valore della variazione del consumo di suolo registrata nell'arco di 5 anni e qui c'è molto da fare per tutti i nostri capoluoghi che non si pongono quindi in performance ottimali anche rispetto alla media nazionale. In 31 anni, ha sottolineato ancora Silvia Tauro, presidente Lega Ambiente Abruzzo, le città sono cresciute in termini di popolazione e dimensioni, ma nonstante lievi miglioramenti restano le croniche emergenze urbane. Le città che si muovono più rapidamente, e questo l'abbiamo visto da sempre, sono soprattutto quelle medio-piccole, soprattutto al nord, mentre nel corso degli anni sono sempre più penalizzati le grandi città e le aree metropolitane estese. Quest'anno infatti nelle prime 20 posizioni, ad esempio troviamo solo Bologna in rappresentanza quindi dei grandi centri. In questo momento c'è da dire che comunque per tutte le città, molto più di quanto avveniva in passato, la vera sfida è l'adattamento climatico. La rigenerazione urbana deve tenere al centro questo elemento, questo obiettivo, dando quindi un valore fondamentale non solo alla qualità ambientale degli interventi, ma tenendo al centro la sicurezza e la salute dei cittadini. Tra le emergenze storiche, smog, autocircolanti, trasporti, perdite delle reti idriche, in crescita invece raccolta differenziata e piste ciclabili. Tra promosse bocciate, se guardiamo la classifica, appunto sicuramente promossa Teramo e rimandate, se guardiamo il quadro complessivo nazionale, Chieti, Pescara e L'Aquila. All'interno poi dei dati però bisogna sempre guardare le particolarità. L'Aquila comunque è l'unica città in Italia classificata come ottima per la qualità dell'aria. Teramo brilla in particolare in questo momento per una performance fondamentale che è quella della dispersione idrica. Chieti e Teramo condividono, pur in posizioni diverse, l'ottimo lavoro fatto sulla raccolta differenziata sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Tutti rimandati i nostri capoluoghi per quanto riguarda la mobilità sostenibile.